Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Parleremo a breve di diverse iniziative contro la violenza sulle donne. Una ha toccato Ferrara ieri e c'è una mostra che a breve inaugurerà per lanciare appunto questo messaggio di sensibilizzazione. Ma parleremo anche del nuovo calendario dei carabinieri. È stato presentato anche oggi a Ferrara, ormai è diventato un oggetto di culto che tanti posseggono. Infatti la tiratura è di diverse milioni di copie e anche nel ferrarese sono diversi che lo richiedono. Ma vedremo anche le immagini di diverse associazioni che erano in campo a cento per la lotta contro chi abbandona i mosticoni di sigaretta. E poi parleremo anche di cioccolato, ma dobbiamo iniziare parlando di coronavirus. Perché in regione aumentano i casi, ma la situazione secondo quanto riporta la giunta regionale è ancora sotto controllo. Sentiamo. Nelle ultime settimane in Emilia Romagna si è registrato un lento ma costante incremento dei casi di coronavirus. Più di 80 su 100.000 abitanti con RTA 1 e 23 e l'area maggiormente interessata è stata la Romagna. La fascia della popolazione più coinvolta è quella che va dai 6 ai 13 anni di età. Meno casi nelle altre fasce grazie alla copertura vaccinale. Picco nelle case di residenza per anziani a metà ottobre con alcuni decessi. L'occupazione delle terapie intensive è passata da ottobre dal 3 al 5%, la soglia considerata di sicurezza è del 10%. Mentre i ricoveri ordinari Covid-19 arrivano al 5,3%, con la soglia limite pari al 15%. È il quadro che emerge dall'informativa in Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali dell'Assemblea Legislativa regionale da parte dell'assessorato alla salute. La situazione è sotto controllo, fa sapere la giunta Emiliano-Romagnola. Prosegue poi la campagna vaccinale con la prima dose somministrata all'89,6% dei cittadini, 88% con la seconda, mentre relativamente alla terza la regione è a 300.000 inoculazioni. 200.000 sono le nuove prenotazioni. Adesso facciamo l'aggiornamento sul territorio ferrarese della situazione coronavirus. La pressione è stabile, sugli ospedali non aumenta, sono pochi i casi nuovi, i casi positivi, ma purtroppo ci sono due decessi. Due donne di 67 e 75 anni di Fiscaglia e Tresignana sono decedute a causa delle complicazioni apportate dal Covid. 11 nuovi positivi su 373 tamponi e 35 nuovi guariti sono i dati che emergono dall'ultimo bollettino coronavirus. Negli ospedali Covid estensi la situazione è stabile rispetto ai dati precedenti. 38 i posti occupati, sui 44 disponibili a Kona, 4 le persone in terapia intensiva. Capitolo vaccini, più di 1.500 le dosi somministrate lunedì 15 novembre, 83 prime dosi, 177 seconde dosi e più di 1.200 dosi addizionali. In totale, da inizio campagna, sono oltre 280.000 le prime dosi, più di 256.000 le seconde dosi e 28.175 le dosi addizionali. Cambiamo argomento adesso, parliamo del messaggio contro la violenza sulle donne, la violenza di genere è quello che sta portando avanti l'iniziativa, una corsa per un'amica, un'opera appunto di sensibilizzazione che si è tenuta anche a Ferrara e anche in provincia, ha toccato infatti diversi comuni del territorio e sentiamo chi la sta portando avanti e soprattutto quali sono state i comuni toccati da questa iniziativa. Diffondere e rafforzare, chilometro dopo chilometro, un messaggio di forte sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e la vicinanza a chi è vittima di maltrattamenti e abusi. E questo lo scopo e l'impegno di Orietta Casolin, atleta della società sportiva Sagitta Bike, che è in sella alla sua bicicletta e partita da Porto Gruaro, nel Veneziano, per raggiungere Roma, proprio nella ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Tra le tante tappe c'è stata anche Ferrara, è arrivata lunedì in piazza del municipio Orietta Casolin, scortata nell'ultimo tratto da ciclisti e pattinatori ferraresi ed è stata accolta dalle autorità comunali e delle associazioni ferraresi. L'iniziativa è una corsa per amica, ha toccato anche Porto Maggiore, sulla strada che da Ferrara conduce Ravenna. Il brutto tempo non ha fatto demordere lei e il suo accompagnatore ferrarese Fabrizio Ardizzoni, presente anche l'associazione ciclistica Portuense Caduti da Piccoli, con il presidente Marco Ravaglia e Diego Serboni. L'impresa di una donna per sensibilizzare le persone e i media riguardo il tema della violenza sulle donne ha toccato anche Bondeno. Il sindaco Simone Saletti ha accolto Orietta con un'untrita rappresentanza. Contrastare ogni episodio di violenza è un dovere, ha detto il primo cittadino. Orietta Casolin poi ha consegnato al comune alcuni doni. E in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, FIDAPA Ferrara, la federazione italiana donne, arti, professioni e affari, ha organizzato con il patrimonio, il patrocinio del comune di Ferrara, la mostra dal titolo Noi. Fotografie di Federica Veronesi e Stefano Pesaro. Inaugurazione sarà sabato prossimo, 20 novembre, alle 11, nell'ex refettorio di San Paolo, in via Capo delle Volte, a Ferrara, da sabato a domenica, 28 novembre. Il fine settimana la mostra si potrà visitare dalle 11 alle 19, mentre nei giorni infrasettimanali la mostra sarà aperta al pomeriggio. Giovedì prossimo, 18 novembre, l'IRT Ferrara organizza alle ore 18 alla Sala della Musica il convegno Donna e Uomo alla prova dei 50, le buone regole della prevenzione. Ce ne ha parlato il vicepresidente di l'IRT, Rodolfo Pazzi. Sentiamo. Giovedì 18 novembre, alle ore 18, alla Sala della Musica in via Boccaleone. Si tiene un incontro aperto al pubblico. Il titolo è Uomo e Donna alla prova dei 50, le buone regole della prevenzione. È un incontro che verrà introdotto dall'assessore alle politiche sociali Cristina Coletti e dal professore Edgardo Canducci, presidente dell'Associazione Provinciale Lilt Ferrara. Ci saranno gli specialisti appunto dell'ambito sia ginecologico che urologico. Si baserà fondamentalmente sulle domande che il pubblico partecipante si spera faccia riguardo agli impicci della salute, chiamiamoli così, che attorno appunto ai 50 anni ci ritroviamo ad affrontare. Menopausa e osteoporosi per il genere femminile, disturbi urologici in ambito maschile. Ovviamente l'invito a partecipare a questo incontro gratuito aperto al pubblico è rivolto non solo ai peri cinquantenni, ma anche a chi ha qualche anno in meno dei 50 o anche qualche anno in più, perché in un qualche modo è un momento di presa di coscienza di determinati disturbi e impicci con i quali ci dobbiamo confrontare. Colgo l'occasione per ringraziare il Centro di Medicina di Ferrara per la continua collaborazione con la Lilt di Ferrara, l'amministrazione comunale, in particolare l'assessore Cristina Coletti che dimostra sempre sensibilità alle iniziative Lilt e colgo anche l'occasione per ringraziare voi per lo spazio che date alle nostre iniziative. Ieri il presidente dell'Avis comunale di Ferrara, Sergio Mazzini, e il vicepresidente vicario dell'Avis provinciale di Ferrara, Gabriele Anania, sono stati ricevuti nella sede di Via Palestro dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, il colonnello Cosimo Delia. L'incontro fra Avis e la Guardia di Finanza rientra nell'ambito delle iniziative previste dal protocollo d'intesa stipulato nel 2009 con la prefettura di Ferrara e recentemente rinnovato per veicolare anche tramite i donatori delle fiamme gialle appartenenti alle forze di polizia un messaggio di vicinanza a tutta la comunità a fianco della quale quotidianamente operano. Ed è stato presentato anche a Ferrara il calendario da collezione dei carabinieri, è stata presentata anche l'Agenda 2022 e altri prodotti editoriali dei militari. Allora vediamo quali sono i contenuti di questo calendario che come da tradizione torna anche quest'anno. Carlo Lucarelli e il maestro Sandro Chia per il calendario storico dell'Arma 2022, presentato il calendario storico dei carabinieri che celebra i 200 anni del primo regolamento generale dell'Arma, il talento dello scrittore Lucarelli si è soffermato di volta in volta su episodi ambientati lungo il corso degli ultimi 200 anni nei quali il regolamento si manifesta come chiave di volta non solo per l'organizzazione dell'Arma ma per la sua integrazione nella società. Storie di vivere comune assurgono riferimenti valoriali mostrando come i concetti espressi nello storico documento si incarnano nel quotidiano agire dei carabinieri e da questo paradigma che si decliniano gli avvincenti racconti di Carlo Lucarelli che si fondano con le straordinarie opere del maestro Sandro Chia. L'interesse da parte verso il calendario storico è dimostrato dall'alta tiratura di quasi un milione e duecentomila copie a livello italiano. iniziata nel 1928 la pubblicazione del calendario giunta alla sua 89esima edizione dopo l'interruzione post bellica dal 45 al 49 venne ripresa regolarmente nel 1950 fino ad oggi. Ancora una donazione a favore della sanità centese da parte del Rotary della città del Guercino il club della ruota infatti guidato in questa annata da Carlo Negrini venerdì scorso ha consegnato all'ospedale di Cento un ecografo digitale destinato specificatamente all'unità operativa di medicina interna dell'ospedale di Cento diretta dal professor Giorgio Zoli. Ecco a cosa servirà? Questo macchinario oggi come oggi non solo è importante ma è indispensabile per il lavoro quotidiano di un'unità operativa di medicina interna. Come accennato in precedenza questo ci consente di valutare praticamente quasi tutti i distretti corporei. Questa tecnologia basata sull'uso degli ultrasuoni praticamente sono dei sonar come quelli che cominciarono a usare i sommergibili e le navi antisommergibili nella seconda guerra mondiale. Per un recente passato che speriamo non si debba ripetere almeno non con la stessa intensità durante l'emergenza Covid dei circa 40 letti di medicina interna Covid che io ho dovuto gestire l'utilizzo era fondamentale perché facevamo sia diagnosi che follow up che controlli appunto evolutivi delle infezioni da Covid. Oltre a questo naturalmente fegato, reni, pancreas e l'intestino. L'intestino per noi è molto importante. Può dare due grandi aiuti. Uno nel sospettare la presenza di una patologia. L'altro discorso per cui è molto importante è nel follow up, cioè nel seguire i pazienti. Io ho fatto la diagnosi coloscopica di certezza. A quel punto non starò a fare ogni sei mesi, ogni anno una coloscopia al paziente. Solitamente si fa nell'arco dei successivi cinque anni se non ci sono particolari indicazioni. Ma sicuramente potrò fare ogni sei mesi, massimo un anno, un esame ecografico che mi dà comunque un numero importantissimo di informazioni pur senza sostituire assolutamente l'esame endoscopico. Insomma giornate come queste sono quelle giornate che ti fanno rendere conto ancora di più dell'eccellenza della nostra sanità sul nostro territorio. Chiaramente come ho detto poco fa in conferenza stampa sono molto contento. Ho ringraziato, anche ho fatto un passaggio indietro, ringraziato tutti i sanitari per il grande lavoro che fanno. Sono molto contento che parta questo progetto gestito e curato dal professore Sassone di telecardiologia che aumenta la possibilità di servizi sanitari alla nostra cittadinanza e chiaramente mi sono sentito di ringraziare il Rotary Club di Cento, il Rotary Foundation per questa importante donazione di questo apparecchio che appunto garantirà ancora un miglioramento delle prestazioni sanitarie alla nostra cittadinanza, non solo a quella di Cento ma a tutto il territorio. Rimaniamo a Cento adesso dove la fondazione Don Giovanni Zanandrea e i volontari di Plastic Free hanno aderito alla campagna per un pugno di mozziconi, una campagna nata un anno fa da un'idea della polizia provinciale. Questa mattina Clara ha consegnato il contenitore che resterà stabilmente a disposizione delle due organizzazioni. Sentiamo il servizio. Un contenitore specifico per la raccolta dei mozziconi di sigaretta da custodire presso la sede della fondazione Zanandrea di Cento è quello consegnato da Clara SPA dopo la richiesta arrivata oltre che dalla stessa fondazione anche dai volontari di Plastic Free di Cento, realtà entrambe impegnate da diverso tempo nella cura del territorio e nella raccolta dei piccoli rifiuti nelle strade del comune. L'iniziativa rientra nel progetto per un pugno di mozziconi, tanta solidarietà ideata un anno fa dalla polizia provinciale con il sostegno e la collaborazione di comuni e associazioni del territorio e il supporto tecnico di Clara e degli altri gestori. Sono infatti proprio i mozziconi di sigaretta gettati al suolo, i rifiuti più frequenti raccolti durante le attività di pulizia dei volontari e l'idea della fondazione condivisa da Plastic Free è stata quella di impegnarsi ancora di più nella raccolta dei mozziconi ma con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini su quanto un semplice gesto di civiltà, ovvero quello di non gettare a terra i mozziconi, possa contribuire alla bellezza del nostro territorio e alla salute del nostro pianeta. Già con il progetto Go Green Zanandrea la fondazione di Cento organizza dal 2019 laboratori didattici per bambini sul tema del riuso e delle energie rinnovabili, conferenze sul tema della salvaguardia del pianeta, oltre ad attività concrete di cura del proprio territorio, mentre Plastic Free promuove dal 2019 raccolte per liberare l'ambiente dalla plastica e dai rifiuti in genere, ma soprattutto per sensibilizzare i cittadini su questa emergenza ambientale, con una particolare educazione nei giovani con incontri nelle scuole. Ci spostiamo a Bologna adesso dopo lo stop per la pandemia, ritorna questo fine settimana all'appuntamento con Ciocco Show, evento amato da grandi e anche dai più piccoli ovviamente, una festa del gusto e con il Green Pass. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Dopo tutti i controlli del caso, compreso il Green Pass, sarà possibile incontrare per quattro giorni, dal 18 al 21 novembre prossimo, 33 fra i migliori maestri del cioccolato a livello internazionale. Dopo lo stop forzato causa Covid, torna infatti a Bologna, in piazza 20 settembre, il Ciocco Show, una delle più importanti manifestazioni nazionali organizzata da CNA Bologna è dedicata al cacao e a tutte le sue fantasiose trasformazioni. Finalmente il filo si ricuce, è un evento al quale noi abbiamo tenuto particolarmente non tanto per l'importanza o per l'impatto che avrà, ma proprio per un fatto di rilanciare, per un fatto di riproporre entusiasmo ai nostri artigiani, la città. Tutti noi abbiamo voglia di ritornare fuori, abbiamo voglia di rigoderci, come dice lo slogan, di prendere il bello della vita, di riconquistarci la città, riconquistarci dello spazio, di poter andare fuori, di poter rilanciare proprio questo genere di concetto che abbiamo un po' sofferto tutto quanto. Qual era l'occasione migliore? È stata proprio questa di trovarci con Bologna a Fieri Servizi, subito dopo le vacanze ha detto cosa facciamo con questo bel evento che è Choco Show. Dobbiamo rifarlo, ci siamo detti dobbiamo rifarlo, ci siamo impegnati per rifarlo, vogliamo dimostrare che facendolo in sicurezza, seguendo i protocolli che bisogna seguire, come i nostri artigiani li hanno seguiti durante tutto questo genere di questi 18 mesi di sofferenza, si può ritornare in piazza, si può ritornare insieme, si può passare un'ora passeggiando per la città. Alla manifestazione, che richiama ogni anno migliaia di visitatori attratti dal dolce sapore, verranno applicati tutti i protocolli necessari per muoversi in sicurezza fra gli stand. Abbiamo organizzato innanzitutto l'insegno molto della sicurezza, perché questo è il tema fondamentale di questo periodo, per cui l'accesso alla manifestazione, che rimane sempre gratuito, rimane sempre libero per il pubblico, sarà però comunque obbligatoria la presentazione del Green Pass per poter accedere agli stand. Questa è una scelta che abbiamo voluto perseguire, proprio per dare anche un segnale di sicurezza nei confronti dei visitatori, essendo una manifestazione che tutti gli anni hanno sempre attirato parecchia gente, c'era il pericolo comunque di avere da una parte gli assembramenti, da una parte comunque un mancato controllo, abbiamo voluto seguire un protocollo, che è il protocollo della EFI, che è l'Associazione Nazionale degli Enti Fieristici, che comunque è quello di tutelare il più possibile sia il pubblico sia gli espositori. Una passione è quella per il cioccolato artigianale che è cresciuta di oltre 7 punti percentuali nell'ultimo anno fra gli italiani e con cui ogni pasticcere si deve confrontare. Per un pasticcere di cioccolato è tanto, è veramente tanto. Forse è la prima passione, perché ti innamori del cioccolato da bambino, quindi quando ti innamori del cioccolato da bambino, dopo se fai poi il pasticcere, se hai questa fortuna di appassionare di questo mestiere, il cioccolato è parte quotidiana, non può mancare, in tutte le preparazioni c'è cioccolato, si pensa al cioccolato. Questa sera su Telestense alle ore 20, appuntamento con Artigianato News, nella puntata vedremo le immagini del premio Cambiamenti 2021 e vedremo soprattutto i vincitori e le interviste. Poi alle ore 20 e 20, appuntamento con Avis Perle, sempre su Telestense, con una puntata incentrata sul rapporto Avis e Teleton insieme per la ricerca. Poi alle ore 22 torna l'appuntamento con il processo Harold Gran Premio, condotto in studio da Veronique Blasi con tanti ospiti. Si parlerà ovviamente anche dell'ultima gara di Valentino Rossi in MotoGP di domenica scorsa. Con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.